Dietro i sorrisi e le pacche sulle spalle per la soddisfazione di aver concluso almeno al momento l'iter di formazione della nuova giunta regionale di centrodestra, si nascondono ancora dei mal di pancia per qualche deluso a seguito delle scelte per l'esecutivo che in buona parte sono state operate a Roma come era accaduto per l'indicazione di Marco Marsiglio presidente. Ad esempio nella Lega Pietro Quaresimale era sicuro di avere in tasca la delega al turismo che reclamava per il suo percorso amministrativo e per il risultato elettorale ottenuto con 8.700 preferenze ed invece è rimasto a bocca asciutta Giuseppe Bellachioma coordinatore regionale della Lega però getta acqua sul fuoco assicurando che il partito saprà ricompensarlo. È chiaro che essere stati candidati nella Lega è stato un privilegio essere oggi consigliere regionale deve essere un onore per chi è stato comunque eletto nelle liste della Lega. Ci può stare anche qui una condizione, una situazione di una leggera deduzione di amarezza ma la presenza di Pietro Quaresimale qui stasera penso che fughi ogni dubbio sul fatto che non c'è assolutamente nessun problema Pietro è a disposizione del partito e come lei giustamente ha detto poi la Lega in qualche modo premia anche il merito. La promessa ribadita anche dal presidente Marsilio e che si provvederà ad un allargamento della giunta da 6 a 8 assessori sotto segretario compreso. Un percorso però che potrebbe infrangersi contro la legge e contro il taglio ai costi della politica e che quindi per questo è molto difficile per nulla immediato. Quindi una possibile via di uscita potrebbe essere quella della cosiddetta staffetta tra assessori a metamandato, un rimpasto che accontenti chi è rimasto escluso. Al di là di tutto la prima vera prova sulla tenuta delle cuciture della maggioranza sarà il voto sul presidente del consiglio regionale. Se Lorenzo Sospiri Forza Italia otterrà il plenum dei voti di maggioranza 18 così come auspica Marsilio vorrà dire che nonostante i musilunghi di azione politica e Udc il centrodestra resta compatto. Altrimenti se uno tra azione politica e Udc o entrambi dovessero passare al gruppo misto potrebbe determinarsi un serio problema di numeri in consiglio con due voti che si andrebbero ad aggiungere ai 13 dell'opposizione di centrosinistra e Movimento 5 Stelle. Al di là di retroscena tutti da verificare alla prova del consiglio regionale già da martedì prossimo ieri c'è stata la prima giunta informale nel quale è stato già deciso un primo atto il bando per reperire il nuovo direttore generale che vada a sostituire Vincenzo Rivera. Tra gli assessori per Fratelli d'Italia c'è Guido Liris ex assessore del comune dell'Aquila. A lui il maggior numero di deleghe molto complesse tra cui quella al bilancio. Le mie deleghe sono molto complesse perché vanno da una macchina organizzativa tutta interna della regione, personale, bilancio, ragioneria, parrimonio quindi la macchina della regione, il suo funzionamento, le sue articolazioni che è stata mortificata anche dalla gestione d'Alfonso quindi la gestione uscente e quindi c'è tanto da risanere da questo punto di vista e poi c'è un mondo esterno relativo alle aree interne, relativo al crater, relativo a tutto quello che compete, sport, impianti sportivi e anche strumenti della conoscenza e le partecipate che è un mondo tutto da disciplinare, da governare. È una sfida importante, una sfida certamente difficile ma non ci manca nella forza, nell'entusiasmo, nell'ambizione.